Il Cuisine Companion di Moulinex è una macchina professionale in grado di tritare, mantecare e cuocere al vapore ogni tipo di pietanza, permettendo di creare le vostre ricette preferite comodamente a casa senza rinunciare alla qualità. Il corpo è solido ed elegante, dotato di un motore da 1550 watt con 12 velocità, che permette di ottenere risultati formidabili per ogni esigenza, dalla mescolatura lenta e delicata alla miscelazione ultra rapida. Il display rende semplice ed immediato impostare la temperatura e il tempo di cottura dei vostri cibi, oltre a permettere di scegliere tra i 6 programmi automatici disponibili. Nella confezione troverete diversi accessori per espandere al meglio le sue potenzialità. La lama Ultra Blade vi consentirà di tritare e sminuzzare qualsiasi alimento. Gli accessori di miscelazione sono ideale per la creazione di zuppe e risotti cremosi. La frusta e lo sbattitore vi aiuteranno a montare emulsionare e realizzare deliziosi dolci. Ed infine il cestello a vapore da 2 litri sarà il migliore alleato per una cucina light, consentendo una cottura al vapore ideale per pesce e verdure. All'interno della confezione è disponibile anche un ricettario contenente un milione di possibili menu, con cui potrete scatenare la fantasia. Cuisine Companion di Moulinex è un prodotto davvero completo, affidabile e versatile, un oggetto unico adatto ad ogni cucina.